Anche per noi l'impatto è molto limitato e si limita prevalentemente all'ambito siderurgico dove però anche la presenza molto ramificata del player che gestisce in questo momento lo stabilimento siderurgico consente poi di approvvigionarsi su altri fronti quindi è un impatto molto relativo e che riguarda prevalentemente il terminal siderurgico.